Sono ora a nero su bianco i risultati conseguiti da Adamo Maiese nei suoi primi mesi da direttore responsabile del distritto sanitario Sapri Camerota. In una relazione inviata ai dirigenti e ai dipendenti ha fissato i punti su cui si è finora principalmente soffermato per centrare gli obiettivi stabiliti fin dalla sua nomina con i vertici aziendali. Obiettivi mirati al controllo e alla razionalizzazione della spesa passata anche attraverso una più efficiente organizzazione del personale, anch'essa di per sé limitatrice di sprechi. Un piano non calato dall'alto ma redatto dopo aver attentamente analizzato le peculiarità del distritto Sapri Camerota e per assicurare, non a parole ma nei fatti, una sanità di qualità. Prima che io arrivassi in questo distritto la spesa farmaceutica era completamente fuori controllo, invece dopo quattro mesi l'abbiamo riportata al di sotto della spesa farmaceutica del 2013 senza togliere niente dei pazienti. Insieme a questo per i pazienti abbiamo migliorato qualitativamente e quantitativamente gli accessi nati e precisamente usando tra virgolette gli invermieri che fanno capo al distritto, mandandoli verso il domicilio di queste persone e aumentando il numero di accessi unitamente anche alla qualità. Sempre nella relazione che ha redatto sono 12 i punti per l'esattezza che ha toccato, si parla anche di medicina specialistica, di South 118, di continuità assistenziale. Ma io ho un esempio, noi avevamo per il 118 pagavamo di straordinario ad alcuni invermieri circa 28 mila euro all'anno. Io ho razionalizzato l'attività degli invermieri del distritto e un infermiere del distritto l'ho mandato al 118. Quindi ho risparmiato 28 mila euro che possiamo usare per altre attività. Nel senso che questa razionalizzazione del personale porta un miglioramento del servizio unitamente a un risparmio, anche perché un infermiere che invece di 36 ore fa 56-57 ore settimanali non vi è il cosiddetto riposo biologico necessario per essere lucido per attrezzarsi a dare delle risposte alle problematiche emergenti. Un altro problema è il piano di zona. Non è possibile che in questo momento il distretto sta surrogando tutte le attività di un piano di zona che in questo momento non è funzionante e io non capisco perché non è funzionante. Non è un mio compito, ma certamente credo che i cittadini hanno necessità di avere questo servizio, perché questo servizio aiuta soprattutto le parti più deboli, i minori, le famiglie in disagio, con gli assistenti sociali. Noi lo stiamo facendo come distretto. Il direttore del distretto sanitario Sapri Camerota, Adamo Maiese, ha tracciato dunque un bilancio a 360 gradi su quanto svolto finora. Poi l'ha stoccata nei confronti di chi sta cercando di ostacolarlo. Fino ad adesso abbiamo ridotto la spesa di questo distretto di circa 270-280 mila euro in quattro mesi. Tutti questi soldi risparmiati vogliamo migliorare il servizio qualitativamente delle parti. Però devo dire una cosa, mi preme dirlo. Sto ricevendo una serie di lettere anonime, cioè dei corvi che fanno queste lettere, perché si sta rompendo un sistema. Io devo ribadire ancora una volta che gli unici corvi che mi piacciono è quello del quadro di Van Gogh sul campo di grano. Il resto dei corvi non mi piacciono. Anche perché io vorrei che la gente di dipendenti e non, se hanno qualcosa da dire, la mia porta è sempre aperta. In fondo che cosa c'è in questo distretto? Dobbiamo dirlo, è la sedimentazione di lungo tempo di condizioni preesistenti, di natura, che non hanno a che vedere con la sanità. Allora dobbiamo riportare la sanità al suo unico scopo, stare a servizio della gente e non per altri motivi. L'intervista integrale realizzata stamattina con il direttore del distretto sanitario Sapri Camerota, Adamo Maiese, andrà in onda integralmente al termine del telegiornale. Grazie a tutti.